Oh, cazzo! Ma che lavoro fa di preciso? La figlia dell'amica con cui vado a Jeju rimarrà da sola. Se le succede qualcosa, fosse anche un minuscolo graffietto. Tu sei un uomo morto. Dov'è la ragazza? Sai dov'è Kim? Mi serve un favore. Un favore? Voglio assolutamente sapere chi è l'uomo che ha scelto Kim. Non perdere le speranze. Potrei anche risparmiarti.